Parte con l'Ariete. Anche un cammino di mille miglia comincia con il muovere il primo passo. Questo è lo spirito giusto per occuparvi delle noiosi incombenze quotidiane. Affrontate nella vostra attività un problema di carattere giuridico che non ha più senso rimandare oltre. Toro, mollate faccende domestiche e impegni vari per una bella passeggiata in città. Quattro passi, a guardare vetrine e magari incontrare qualche amico non vi faranno certamente male. L'importante è non mettere troppo mano al portafoglio. Gemelli, voglia di shopping ma di sabato è normale. Prima la spesa settimanale, poi una volta riposto tutto in frigo, le frivolezze per voi e la famiglia. Una tenera amicizia forse diventerà amore. Cancro, sulla carta sembra promettente ma conti fatti ve ne viene ben poco. Invece nel braccio di ferro tra amici e partner sarà il gruppo a vincere questa volta. Leone, un po' di malinconia dovuta a qualche ricordo di troppo e un lieve malessere non vi consentono di affrontare adeguatamente una situazione delicata. divagatevi con dello sport o con una bella passeggiata in centro. Vergine, influssi positivi sia per il lavoro che per la famiglia. È necessario dare ascolto ai consigli di una persona cara che in passato vi ha saputo sostenere. Bilancia, un passo avanti e uno indietro, così procedete verso il traguardo. Mantenendo questa andatura senza dubbi andate sul sicuro, però che noia! Un lieve disagio vi avverte che state trascurando la vostra dolce metà. Scorpione, le stelle vi inviano segnali contrastanti. Un problema assillante parlandone può trovare una soluzione. Qualcosa o qualcuno non smette di infastidirvi, ma ricorrendo alla logica e al buon senso potrete farli tacere. Sagittario, non è il momento di travolgenti entusiasmi. Cercate il dolce piacere dei piccoli spazi di intimità. Scoprirete che la tenerezza può più dell'ostinazione. Capricorno, una passeggiata distensiva, un pranzo da Masterchef con i vostri cari. Oggi sarà una giornata spensierata, ma non solo. Potrete anche togliervi qualche fastidioso sassolino nella scarpa. Acquario, le stelle preannunciano una spesa non preventivata, una questione legale che vi tiene con il fiato sospeso e la comunicativa che non vi aiuta. Mettete a profitto il vostro senso pratico e li supererete brillantemente. Pesci, la giornata è perfetta per fare due passi o per organizzare una cenetta con amici e parenti. Anche le faccende domestiche filano a meraviglia. in un batter d'occhio riguadagnerete il tempo perduto.